Il freddo e la pioggia intensa non hanno bloccato il corteo di solidarietà nei confronti di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone e i due fucilieri di Marina Pugliesi trattenuti in India da più di 20 mesi con l'accusa di aver ucciso due pescatori. Siamo tutti uniti verso un unico obiettivo, liberi subito, liberi Salvatore e Massimiliano. Sono contenti, sanno che c'è questa manifestazione e ovviamente si aspettano una piazza piena d'affetto. Qual è il loro stato d'animo? Sono abbastanza sereni e forti. Sentite in questo momento il paese vicino? Come può ben vedere, tutta l'Italia è qui rappresentata. Partito da Piazza Bocca della Verità, il corteo è sfilato anche dinanzi al Campidoglio dove qualche settimana fa sono state rimosse le gigantografie dei due marò. I familiari su questo non commentano, ma tra i gruppi arrivati a sostegno non mancano le critiche anche per la mancanza dei rappresentanti delle istituzioni. Non è il momento di fare polemiche, è una bellissima festa. Facciamo polemiche, siamo soltanto qui per dare solidarietà. E' un peccato non vedere istituzioni, ma c'è l'Italia, c'è il popolo. Siamo qui con altri colleghi, anche di altre forze armate, qui per portare il nostro supporto a questa causa. Nel corteo molti militari arrivati dalla Puglia e da altre regioni italiane, tantissimi gli alpini e bersaglieri. Tra bandiere tricolore e coccarde gialle si celebra l'attesa, ma anche la speranza di riportare presto i nostri marò a casa. Un simbolo di attesa. Noi stiamo aspettando il rientro dei nostri congiunti in Italia. Questo è il simbolo del fiocco giallo. Grazie a tutti.